Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video e oggi apriremo l'uovo di Pasqua di Batman, una collezione strepitosa. L'avevo annunciato, lo avevo detto nel video in cui vi mostravo tutte le sorprese delle collezioni di Pasqua Kinder e di quest'anno, un video che ho fatto uscire qualche giorno fa sul canale. La collezione di Batman, prima che mi mandassero quelle foto, non l'avevo mai vista, ma quando l'ho vista ho detto subito che spettacolo, io questa la faccio. E insomma ragazzi, eccoci qui con l'uovo di Batman, abbiamo già aperto quello di Pokémon, se vi siete persi il video andate a recuperare, se vi siete persi il video in cui vi mostro tutte le sorprese della Pasqua Kinder recuperate anche quello, se riesco ve li faccio passare entrambi qui sopra, così cliccate e andate a vedere, e vi invito subito ad iscrivervi al canale per non perdervi tutti i video legati alla Pasqua, Kinder e non solo, ma soprattutto per non perdervi tutti i video che io durante l'anno pubblico, almeno tre video a settimana pubblico, ma qui su questo canale arrivano tutte le collezioni Kinder, Salati Preziosi, Dolci Preziosi, Crick Rock, San Carlo, tutte le collezioni che escono in edicola, le action figure del presente e del passato, Retro Toys, gameplay, insomma è pieno di playlist, è pieno di video, più di 400 video caricati, tanti altri ne arriveranno, in più pubblico dei video news in cui vi annuncio l'uscita delle nuove collezioni, o anche dei rumors su possibili collezioni in uscita per quanto riguarda la Kinder, ma anche le altre marche, quindi iscrivetevi al canale. E adesso apriamo l'uovo di Batman, vai! Allora, l'uovo costa, così do anche un'informazione molto molto importante, l'uovo di Batman costa 11,90€. Allora, intanto vediamo qui la cartina, abbiamo un bel Batman qui in copertina, il logo di Batman, qui per giocare con l'app, qui il codice per scaricare l'app, il logo Kinder Grand Sorpresa, il logo 3DC, e questo me lo conservo a fini collezionistici. La buona collezionista, conservo anche quello lì. Adesso, apertura facilitata, è così, togliamo lo scotch. La carta dell'uovo è la classica carta Kinder, con i colori usati per la Pasqua, non ha niente di che. Quello Pokémon già aveva dei colori che richiamavano di più proprio il famoso brand. Allora, ecco qui l'uovo, eccolo qua, questa è la dimensione dell'uovo di Batman, troveremo Batman o Joker, pugnetto, apriamo l'uovo. Questo è il colore scelto per l'involucro della collezione di Batman. Lo apriamo, come al solito, piano piano, non pianissimo, e abbiamo trovato Joker, ragazzi. Abbiamo trovato Joker. Guardate che bello, e già possiamo vedere che leggermente le braccia si muovono, però state attenti a non spezzarle, perché hanno veramente poco poco gioco. Sono snotabili, ma non snotabilissime. Si muovono, ma non troppo, quindi attenzione, perché si potrebbero facilmente staccare. Allora, questa è la cartina che vi porta appunto i personaggi presenti in questa collezione. Sono due figure, una di Batman e una di Joker. Queste sono le istruzioni per il montaggio. E qui tutto quello che serve, insomma, le istruzioni per scaricare l'app e giocare con Joker. Nell'app. Questa è la cartina con il codice. Le istruzioni anche qui dietro. E questo è Joker con il suo martello. Bella, la figura è fatta bene. Peccato che i punti di articolazione non sono molto articolati, mi verrebbe da dire. Non sono un granché snotabili, purtroppo. Però la figura è fatta veramente, veramente molto bene. Eccola qua, ce la vediamo nel dettaglio. Se mette a fuoco la vedete meglio. Ok, perfetto. La figura è stata disegnata bene. È bella, dai. È una bella collezione questa. Non c'è che dire. Speriamo che la frequenza dei doppioni non sia alta, come accadeva l'anno scorso per quella dei gormiti, così da completarla facilmente. Una cosa che sto notando in alcune sorprese Kinder, alcune hanno delle macchie bianche. Ce l'aveva Jengar sotto il piede e ce l'ha Joker qua dietro la schiena. Hanno queste macchioline bianche come se fossero state sbattute e si fosse perso un po' di colore. O se ci fosse stata proprio una sbavatura durante la fase di painting. Comunque, lo sto notando. Cercherò di aguzzare gli occhi anche per le prossime sorprese che arriveranno dai prossimi spacchettamenti delle uova di Pasqua Kinder. Detto questo ragazzi, si conclude qui questo video, ma io vi invito di nuovo ad iscrivervi al canale per non perdervi nessun contenuto del mio canale. Quindi iscrivetevi ragazzi, invitate i vostri amici ad iscriversi, condividete questo video, lasciate un bel mi piace, commentatemelo, fatemi sapere cosa ne pensate di questa collezione. Se la state facendo, se vi piace, se non vi piace, commentate il video ragazzi. In descrizione vi lascio anche il link alle pagine Facebook, Instagram e TikTok del canale. Se volete mi seguite anche lì, sempre in descrizione trovate il link del blog. Se volete ci fate un salto e noi, come al solito, ci becchiamo. Al prossimo video, ciao belli!